E la decima segnalazione, quella di oggi, di queste risposte creative, parliamo di una risposta attivata fra le prime per un'esigenza venuta dal basso ma poi condivisa anche dall'alto. Si è creato un sistema a livello provinciale per andare incontro alle esigenze degli ultra 75 anni che si trovano da soli in casa. Resta a casa, passo io, il titolo del servizio che è coordinato a livello provinciale da un numero telefonico del Dipartimento dei Servizi Sociali della provincia e che poi è stato decentrato a cascata, comunità di valle e comuni fino ad arrivare ad una rete di volontariato costituito di varie associazioni studentesche, scout, la Caritas, altre sigle ecclesiali e non, dove si riesce a far arrivare appunto i viveri, i farmaci, i pasti a domicilio anche a persone che erano escluse dal servizio domiciliare. In più c'è poi una risposta anche di tipo relazionale attraverso una rete telefonica di cui già abbiamo parlato. Bene, penso che anche a fine emergenza questa risposta resterà come un'eredità importante di collaborazione fra pubblico e privato a favore di una fascia di Trentini che oggi è a particolare bisogno. Ci sentiamo domani.